Centinaia, migliaia di insegnanti a maggio sono andati in piazza, centinaia, migliaia hanno fatto tutta una serie di manifestazioni contro questa legge, addirittura hanno fatto una cosa che non succedeva da anni, hanno fatto l'unità sindacale e poi la 107 con un decreto legge è diventata legge dello Stato, nessuna possibilità di discutere, nessuna possibilità di modificare. È cominciato l'anno scolastico, gli insegnanti si sono trovati davanti qualcuno che aveva acquisito benemerenze, aveva acquisito autorità, aveva fondamentalmente messo in ginocchio una professione, ma non perché lui o uno qualsiasi, perché il modello, il modello autoritario di impostazione della riforma della scuola, aveva, ha di fatto attribuito a una persona, a qualcuno che può essere un illuminato, un delinquentello locale, una persona che ha a cuore interessi che riguardano qualcosa di specifico, insomma qualcuno attribuito a questo qualcuno la possibilità di fare la scuola, la sua scuola. Ecco, io penso che al di là di tutti questi discorsi che hanno visto l'unità sindacali e che si sono interessati quindi di quello che è il diritto al lavoro di un gruppo di persone numeroso, dignituoso, colto, abbia completamente dimenticato un discorso fondamentale che è quello della scuola, del perché della scuola, di che cosa ci vanno a fare i ragazzi nella scuola, di che cosa si aspetta la società che i ragazzi facciano e ottengano dalla scuola. E questo è il problema. Io sono convinto che noi abbiamo questo problema davanti, che non è il problema dei precari, che è un problema ovviamente, ma che non è un problema della scuola. Il problema dei precari è un problema dello Stato italiano, del modo con cui vengono trattati o bistrattati coloro che lavorano nella scuola. Il problema della scuola però è a che cosa è chiamata la scuola. Ciò che più di tutto mi fa impressione in questa legge è il fatto che non ci siano, attribuite alla scuola e all'istruzione, non ci siano alcuna idealità, alcuna di quelle istanze che ci aveva fatto pensare insieme a Calamandrei che la scuola fosse un'istituzione costituzionale. La 107 ha di fatto legalizzato, ha reso come unico scopo fondamentale dell'insegnamento qualcosa che noi avevamo provato a osteggiare per tanto tempo. A scuola deve essere divertente, a scuola bisogna fare quelle cose che assecondano i bisogni, l'interesse e la curiosità dei ragazzi. A scuola bisogna andarci volentieri, socializzare. Tutto bello, tutto inutile. Sono tutte quelle cose che se noi non abbiamo davanti dei cittadini, se non abbiamo fatto chiaro per loro qual è lo scopo del loro stare insieme in quelle ore, negli anni della loro formazione, se non abbiamo avuto la voglia, la possibilità, la capacità di dire loro che noi aspettiamo per andarcene, magari ce ne andiamo anche prima, che loro siano diventati i testimoni di questa cultura e di questa civiltà dalla quale discendiamo. Io penso che togliere alla scuola pubblica questo scopo fondamentale sia in fondo il problema dei problemi. Noi abbiamo problemi appunto di professione, di stipendio, di non riconoscimento, ma ne abbiamo uno fondamentale. Non sappiamo più che cosa sia disposto a chiederci lo Stato, che cosa sia disposto a chiederci il mondo nel quale viviamo, oltre al fare una specie di grande asilo che dura fino ai 18 anni, dove siccome è importante la musica si farà più musica, siccome è meritorio si farà sicuramente inglese e poi non ultima informatica, ma di tutto il resto della formazione, coltivazione di tutti quegli elementi che rendono possibile la convivenza fra gli esseri umani in una società complessa, piena di contraddizioni e di problemi non risolti. Niente, basta, finito, non se ne parla. È un po' come se ci fosse stato un testimone che qualcuno di noi ha ostinatamente tenuto in mano e portato avanti per un po' cercando di trovare qualcuno a cui affidarlo e che il testimone sia caduto per terra e nessuno si sia curato di raccoglierlo. Sono difficili da accettare i discorsi di questo genere quando poi diventa abbastanza abbastanza facile, invece, ah ma gli insegnanti lavorano poco, ah ma gli insegnanti non sono preparati, ah ma, ah ma. È il mandato che è venuto meno, il mandato che lo Stato, la società, dava a questo gruppo di persone che aveva formato, anzi che si era formata, che aveva cercato di trovare un posto come giusto di lavoro ma che insieme a questo aveva delle idealità, l'idealità di trasmettere delle conoscenze affinché, partendo da queste, quelli che venivano dopo proseguissero la strada della civiltà, della cultura nel nostro mondo.